Lunedì prossimo per lo sciopero contro la manovra del governo salta a Bologna l'unità sindacale sulle modalità della protesta. 8 ore per la CGL che scende in piazza anche per la vicenda Fiat, 3 ore invece per Cisle Will. Il presidente della fiera, Duccio Campagnoli, plaude all'idea di prolungare il tracciato della monortaia People Mover fino al quartiere fieristico. Ancora critica invece da Giovanni Favia, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Durante un brutto litigio con la moglie le sferra un pugno ma colpisce per errore il figlio Leto di due anni che era in braccio alla donna, nigeriano arrestato dai carabinieri a Ozzano. Picchiavano, minacciavano di morte e terrorizzavano due giovani uruguaiane costrette a prostituirsi sui viali dei giardini Margherita. In manette sono finiti tre albanesi accusati anche di sequestro di persona. Si chiama 1199 Panigale ed è il nuovo gioiello della Ducati. È stato presentato stamattina al Motor Show di Bologna. È la moto più tecnologicamente avanzata ed è bellissima nella sua versione tricolore, dice l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. In apertura oggi la pagina sindacale perché lunedì i sindacati, i confederali CGL e Cisle Will, sciopereranno tutti e tre contro la manovra economica del governo Monti. Ma a Bologna però ancora una volta la protesta non sarà unitaria. Si registra infatti una spaccatura tra la CGL e gli altri sindacati confederali. La Camera del Lavoro infatti ha già programmato otto ore di sciopero, tre invece per gli altri. Dunque la spaccatura, il disaccordo è sulle modalità della protesta. Ma facciamo il punto in questo servizio. Sindacati confederali divisi a Bologna sullo sciopero contro la manovra del governo Monti. CGL e Cisle Will a livello nazionale hanno proclamato tre ore di astensione dal lavoro per lunedì prossimo. Ma la CGL bolognese, che manifesta anche per la vicenda Fiat, ha intenzione invece di attuare otto ore di sciopero nelle fabbriche. Sotto le due torri insomma la protesta non sarà unitaria, ognuno andrà per conto suo. La CGL non intende fare marcia indietro. Il segretario bolognese del sindacato Danilo Gruppi è stato chiaro. Non avevamo le condizioni per frenare un treno già avviato a tutta velocità. La nostra non è una scelta in contrasto con la decisione nazionale. Noi abbiamo deciso prima e ora, secondo me, le otto ore di sciopero stanno dentro il solco della posizione unitaria. Diversa la visione della CISL. Abbiamo perso, secondo me, un'occasione. Pur avendo molte sintonie di critica verso la manovra del governo, purtroppo non potremo fare un'iniziativa insieme e credo che i lavoratori invece in questo momento avrebbero voluto una risposta unitaria da parte dei sindacati. Bologna purtroppo è sempre diversa da tutti. Ma a parlare della vicenda sono stati oggi anche i segretari generali. Susanna Camusso della CGL ha definito una stranezza la scelta del segretario bolognese, mentre Raffaele Bonanni della CISL ha dichiarato la CGL dovrebbe avere gli stessi comportamenti in tutta Italia. La vicenda si commenta da sé. E continuiamo a parlare della manovra economica, la manovra finanziaria. Il decreto Monti da oggi è al vaglio del Parlamento. Il PD non farà mancare il suo sostegno, ma a livello locale invece non mancano le critiche. Per esempio la soppressione dei quartieri è per il segretario bolognese del partito Raffaele Donini irricevibile. Il servizio di Gabriele Sciarra. I quartieri non si toccano. Per il segretario dei democratici bolognesi Raffaele Donini il taglio alla politica previsto dalla manovra Monti che prevede l'eliminazione di organismi rappresentativi periferici come i quartieri e relativi costi, eppure a demagogia è dunque irricevibile. Sono strutture che non si possono smantellare, insiste Donini, perché se ciò venisse fatto non sarebbe più possibile il lavoro a tempo pieno di chi è un presidio per il territorio. Sempre per quanto riguarda gli enti locali, per il segretario PD bisognerebbe rendere possibile ai comuni la disponibilità delle risorse bloccate dal patto di stabilità. A Bologna e provincia ci sono nelle casse 150 milioni di euro per opere pubbliche che potrebbero rimettere in moto le dinamiche virtuose dell'economia locale. In questo senso, prosegue, è un fatto positivo che il Cipe abbia confermato i 267 milioni per la costruzione della metrotranvia. È positiva invece per Donini la soppressione della giunta provinciale in attesa del superamento dell'ente, anche se aggiunge ci sono profili di costituzionalità da verificare se si parla di abolizione immediata. Donini ha poi annunciato che il partito è pronto ad illustrare la manovra ai cittadini, senza tacere quello che non va. I democratici sono pronti a sostenere i provvedimenti necessari per evitare il baratro, ma sono anche impegnati, ha concluso, a migliorare la manovra sotto l'aspetto dell'equità. E in attesa di conoscere meglio i contenuti della manovra, il comune di Castelmaggiore si avvia verso l'esercizio provvisorio del bilancio, anche se la strada obbligata sembra quella dell'inasprimento dell'addizionale IRPEF. Sembra in realtà un percorso che molti altri comuni potrebbero percorrere, ma qui c'è già appunto il requisito dell'ufficialità. In ogni caso, fa sapere l'amministrazione di Castelmaggiore, non saranno inasprite le tariffe che sono già state ritoccate quest'anno. Voltiamo pagina. L'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna, l'Assemblea legislativa, ha approvato il testo di legge proposto dalla Giunta contenente misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Vediamo di che si tratta. Oggi la crisi rende la vita difficile a cittadini ed imprese. La pubblica amministrazione deve fare quindi il possibile per ridurre tempi e costi burocratici. Per questo la Regione Emilia Romagna ha approvato una legge che si propone di semplificare il sistema amministrativo regionale e locale. È una legge che dà subito alcuni input di semplificazione. Cito solo due esempi. È l'omogeneità della modulistica a livello regionale e quindi non avremo più comuni, province, ognuna diversa dall'altra. E soprattutto il divieto delle amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documentazione che già possiedono. Ce ne sono altre di norme utili, ma soprattutto c'è anche un tavolo con le forze sociali e con le imprese per riuscire ad esaminare i processi più complessi e semplificare liberamente. Oggi siamo in una situazione molto complessa per la crisi economica che rende la vita più complicata e più difficile a tutti noi. noi amministratori dobbiamo avere un comportamento con grande rigore e sobrietà, ma soprattutto dobbiamo anche lavorare per rendere più facile il rapporto fra amministrazione, cittadini e imprese. Siamo adesso al nodo infrastrutture, se non altro per quanto riguarda i prossimi progetti a Bologna. L'idea di far arrivare il People Mover fino alla fiera piace al numero uno dell'Expo, Duccio Campagnoli, che oggi dagli stand del Motor Show elogia anche la politica di mobilità del sindaco di Bologna, Merola. Resta decisamente contrario invece il consigliere regionale Giovanni Favia del Movimento 5 Stelle. Le vediamo. Piace al presidente della fiera di Bologna, Duccio Campagnoli, l'idea di prolungare il tracciato del People Mover dalla stazione ferroviaria fino all'Expo. L'ex assessore regionale ha apprezzato l'apertura mostrata ieri su questo punto dall'ex collega Alfredo Peri. A spasso per gli stand del Motor Show, Campagnoli ha elogiato anche la politica per la mobilità impostata dal Comune di Bologna. Assieme alla bellissima idea di rendere il centro di Bologna più libero dalle auto e più bello per chi lo visita e chi lo frequenta. C'è bisogno che Bologna abbia una mobilità esterna molto competitiva. Fare il People Mover tra aeroporto e stazione e poi trovare la soluzione di un collegamento immediato e veloce tra stazione e fiera è molto importante. Io penso che vada valutata seriamente la ipotesi di un People Mover che come avviene in tante altre città del mondo è il trenino che collega più direttamente anche aeroporto e fiera. Ma a rinnovare le perplessità sulla monorotaia ci pensa per tutti il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Favia che dichiara allungare il People Mover è un neurodelirio. Aeroporto, stazione e fiera possono essere collegati benissimo dal servizio ferroviario metropolitano. Il progetto del People Mover di per sé è scellerato. Raddoppiarlo sarebbe comico. E siamo adesso alla pagina della cronaca. Voleva colpire con un pugno la moglie e invece ha centrato il figlioletto di appena due anni in braccio alla donna. È stato nuovamente arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. Un nigeriano di 27 anni residente a Ozzano, Emilia nel Bolognese che un mese fa era già finito in manete dopo aver picchiato la compagna e un militare intervenuto per sedare la lite violenta. Ad avvisare il 112 è stata una vigilessa che ha soccorso la donna fuggita in strada mentre i militari hanno rintracciato e bloccato l'uomo che nel frattempo si era allontanato da casa. Il piccolo portato all'ospedale di Imola ne è uscito con 15 giorni di prognosi. Ieri pomeriggio il nigeriano che era già stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è finito poi in carcere. Le indagini dei carabinieri invece hanno portato allo scoperto l'ennesima triste storia di sfruttamento della prostituzione a Bologna, vittime questa volta due uruguayane schiavizzate da tre albanesi. Vediamo il servizio di Simona Iannessa. Picchiate selvaggiamente, minacciate di morte con una pistola, segregate per giorni e poi costrette a prostituirsi in strada. È l'ennesima triste storia di sfruttamento della prostituzione a Bologna, vittime questa volta due ragazze uruguayane di 25 e 26 anni, agganciate da tre albanesi che poi sono stati arrestati stamattina a Ravenna dove nel frattempo si erano trasferiti. Nei guai sono finiti altri due loro connazionali che sono stati denunciati e perquisiti. L'indagine è partita alcuni mesi fa dalla segnalazione di una delle vittime che nella scorsa primavera aveva tentato la fuga. Anche in quel caso la denuncia si era conclusa con l'arresto di uno dei tre albanesi che dava la caccia alla donna. Poi aggiungo una nuova segnalazione da parte di una delle due uruguayane che nel frattempo, grazie all'aiuto di un cliente, erano riuscite a sottrarsi alla schiavitù e a rifugiarsi ad Arezzo a casa di conoscenti. Le due amiche, infatti, proprio dalla Toscana, erano partite con l'intento di condividere un appartamento con i tre albanesi. Questi ultimi, però, dopo qualche settimana di serena convivenza, hanno iniziato a costringerle alla prostituzione lungo i viali in prossimità dei giardini Margherita. I tre non hanno esitato a minacciarle, picchiarle, tenerle prigioniere in casa per giorni. Per giunta, a fine giornata, le depredavano dei guadagni circa 400 euro quotidiani. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato circa 13 mila euro in contanti, diversi cellulari ed anche un apparecchio per rilevare micro-spie, sul quale sono in corso accertamenti. Sono molteplici, nell'ultimo periodo, le indagini dei militari su giovani straniere finite nella rete della prostituzione. Stando ad una rilevazione dei carabinieri, sarebbero 62 le donne sulla strada lungo i viali di circonvalazione di Bologna. La gran parte di loro è di nazionalità rumena, poi ci sono le russe, le moldave, le uruguayane. L'età va dai 18 ai 45 anni, ma ci sono anche molte minorenni. 650 kg di pistacchi di provenienza iraniana sono stati sequestrati dall'azienda USL di Bologna ieri 6 dicembre perché risultati positivi ai controlli sulla presenza di sostanze contaminanti. Le verifiche effettuate dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL di Bologna, distaccati al CAAB, hanno riscontrato un valore di quasi 100 volte superiore al limite di legge previsto per le aflatossine del gruppo B, sostanza contaminante classificata come potenzialmente cancerogena dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca Contro il Cancro. Oltre a procedere al sequestro, i tecnici hanno informato ovviamente all'autorità giudiziaria e attivato le procedure di allerta europee che prevedono il recupero del prodotto già in distribuzione presso grossisti, negozi al dettaglio e l'individuazione di tutta la filiera distributiva dal momento dell'ingresso in Italia. Le aflatossine sono un gruppo particolare di contaminanti ambientali che possono svilupparsi sia nei campi di coltivazione che successivamente nelle fasi di trasporto e trasformazione del prodotto. Cambiamo decisamente argomento, continua il viaggio delle telecamere di ETV tra gli stand del Motor Show. Oggi un appuntamento immancabile, la presentazione ufficiale del nuovo gioiello di casa Ducati. Andiamola a vedere e a scoprire con Simona Iannessa. Ancora una volta qui dal Motor Show di Bologna, che lo ricordiamo chiuderà i battenti domenica prossima, domenica 11 dicembre. Oggi un grande appuntamento, una prima donna allo stand Motor Valley dell'Emilia Romagna, allestito qui al Motor Show, è la Superbike Panigale 1199. L'ultima sorprendente creazione di casa Ducati che, dopo l'esordio dell'EICMA di Milano e al Salone della Moto di Parigi, fa la sua prima uscita ufficiale nella terra d'origine. Sì, la 1199 Panigale, nel suo allestimento tricolore, che è la moto più preziosa che abbiamo, la moto tecnologicamente più evoluta, abbiamo voluto portarla qui a Bologna, torna a casa sua perché è nata a Bologna, è stata progettata, concepita, sviluppata e fabbricata a Bologna. Quindi per noi davvero essere qui è un motivo di grande orgoglio. Lo abbiamo fatto nel bel mezzo della Valle dei Motori. È una moto che abbiamo voluto dedicare all'Unità d'Italia, abbiamo voluto dedicare con il tricolore che è sulla sua livrea al fatto che in questo momento noi da italiani dobbiamo riscoprire il valore di essere italiani, la passione di essere italiani. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con RTG, prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Lunedì prossimo per lo sciopero contro la manovra del governo salta a Bologna l'unità sindacale sulle modalità della protesta, 8 ore infatti per la CGL, 8 ore di sciopero che scende in piazza anche per la vicenda Fiat, 3 ore di sciopero invece per Cisle Will. Il presidente della fiera di Bologna, Duccio Campagnoli, plaude all'idea di prolungare il tracciato del people mover fino al quartiere fieristico. Ancora critiche invece arrivano da Giovanni Favia del Movimento 5 Stelle. Durante un brutto litigio con la moglie le sferra un pugno ma colpisce per errore il figlioletto di due anni che era in braccio alla donna, un nigeriano, viene arrestato dai carabinieri a Ozzano. Picchiavano, minacciavano di morte e terrorizzavano due giovani uruguayane costrette a prostituirsi sui viali accanto ai giardini Margherita. In manette finiscono tre albanesi accusati anche di sequestro di persona. Si chiama 1199 Panigale ed è il nuovo gioiello della Ducati, è stato presentato stamattina al Motor Show, è la moto più tecnologicamente avanzata ed è bellissima nella sua versione tricolore, dice l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio. Andiamo avanti con il telegiornale. La metalmeccanica è uno dei principali settori dell'industria bolognese. Per uscire dalla crisi e per reggere la concorrenza dei mercati internazionali è necessario incentivare la formazione di giovani tecnici. Anche per questo un'industria ha destinato 14 borse di studio per studenti all'Istituto dei Salesiani. Vediamo. 14 borse di studio saranno assegnate da un'industria e cassa di risparmio di 100 a studenti meritevoli dell'Istituto Tecnico Salesiano Beata Vergine di San Luca di Bologna. Serviranno, recita la nota di un'industria, a premiare il merito e offrire a chi ha possibilità economiche limitate opportunità formative qualificate. Due quindi i criteri di attribuzione, il merito e il reddito. 8 di queste borse di studio, dal valore di 500 euro l'una, saranno attribuite al merito per studenti che già frequentano l'Istituto Salesiano. Sarà premiato il rendimento scolastico e la valutazione di un progetto ricerca promosso dallo studente. Altre 6 borse di studio, dal valore di 1000 euro, andranno invece a quegli studenti che a gennaio si iscriveranno in prima classe. In questo caso saranno assegnate a quei ragazzi le cui condizioni economiche familiari renderebbero difficile il proseguimento degli studi. Gli importi saranno poi rinnovati ogni anno agli studenti assegnatari, purché permangano le condizioni di merito e reddito per un'industria. Investire sulla formazione tecnica dei giovani è più che mai necessario in un momento come questo, anche perché il motore del sistema produttivo bolognese si basa su persone altamente specializzate e capaci di innovare il prodotto. Parliamo adesso invece di un libro realizzato da Unipol Banca, si intitola Lo spettacolo di una città ed è stato presentato alla libreria Coppa Ambasciatori, il servizio di Giuseppe Piloni. Un lungo e affascinante itinerario per la città di Bologna, accompagnati dalle fotografie di Massimo Siracuse e Angelo Turetta, con un'antologia di testi d'autore, da Dante a Carlo Lucarelli, da Stendalla a Lucio Dalla e Roberto Roversi. Il libro è intitolato Lo spettacolo di una città, è stato realizzato da Contrasto Editore per Unipol Banca che ha incaricato i due fotografi di raccontare Bologna. Un libro fatto di tante fotografie, un vero e proprio viaggio sentimentale all'interno della città. Il volume è stato presentato alla libreria Coppa Ambasciatori. È abbastanza consuetudine per la banca, per le banche, produrre pubblicazioni di questo tipo in occasione delle festività, per darle in omaggio ai clienti, alle persone interessate alla banca. Su Bologna è facile, è facile perché penso che siamo una banca di riferimento per Bologna, pensiamo che Bologna sia di riferimento importantissimo per noi e quindi è stato abbastanza automatico, insomma, quando ho visto la proposta a provarla, anche in questi tempi di crisi, ma era un'opera che meritava, come meritava Bologna, una pubblicazione di questo tipo. Ma ho visto Bologna come vedo e come guardo tutto quello che fotografo, ho cercato una linea surreale, una linea magica dentro la città, voglio dire. Fortunatamente, avendo lavorato per assurdo nel mese di agosto e luglio, che è il momento più deserto, era esattamente quello che serviva a me, cioè un'atmosfera sospesa, un'atmosfera magica e lavorare su piccoli dettagli dentro la città. Io ho scoperto una città fantastica e non solo da un punto di vista architettonico, mi è piaciuto moltissimo l'organizzazione degli spazi e della città, questo essere all'esterno e nello stesso tempo anche all'interno con i portici, questo dentro fuori che è così tanto diverso dalla realtà siciliana, quindi questo nascondersi al sole oppure nascondersi al tempo brutto, però nello stesso tempo essere all'esterno e quindi passeggiare con questa sensazione di dentro fuori che mi ha colpito molto. Ci fermiamo un'altra pausa pubblicitaria, torniamo però tra poco. I nuovi studio con RTG, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora rivediamo i principali argomenti del telegiornale di questa sera. Lunedì prossimo per lo sciopero contro la manovra del governo salta a Bologna l'unità sindacale sulle modalità della protesta, otto ore di sciopero per la CGL che scende in piazza anche per la vicenda Fiat, tre ore invece per Cisle Will. Il presidente della fiera di Bologna, Duccio Campagnoli, plaude all'idea di prolungare il tracciato del people mover fino al quartiere fieristico, ancora critiche invece arrivano da Giovanni Favia del Movimento 5 Stelle. Durante un brutto litigio con la moglie le sferra un pugno ma colpisce per errore il figlio letto di due anni che era in braccio alla donna, un nigeriano viene arrestato dai carabinieri a Ozzano. Picchiavano, minacciavano di morte e terrorizzavano due giovani uruguaiane costrette a prostituirsi sui viali accanto ai giardini Margherita in manette tre albanesi accusati anche di sequestro di persona. Si chiama 1199 Panigale ed è il nuovo gioiello della Ducati, è stato presentato stamattina al Motor Show, è la moto più tecnologicamente avanzata ed è bellissima nella sua versione tricolore, dice l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.